Fede, Paolo, Roberto, vabbè dai il punto della situazione, come dicevi prima Il punto è che siamo ancora da 5 mila, dopo l'americata notturna, siamo molto peggiorati Che scopo la potesta guida a Paolo, è una fiatata, è una fiatata L'agochicciato, ci dirigiamo verso il sole, baciamo Grazie a tutti